carissimi amici di gran pesce 95 buongiorno e ben ritrovati finalmente in una nuova e fresca recensione qui sul canale una recensione completa di un'arma effettiva e non nelle solite recensioni dei libri o quelle solite gare dpa in cui vi voglio vedere sul canale con un'arma completa non le classiche recensioni dei libri che per carità sono molto apprezzate spero o le altre gare dpi in cui vi ho inondato con cui ce la posso fare questa finirà nei blooper oggi il caldo mi sta dando veramente alla testa ce la farò a registrare questa recensione calcio in materiale plastica andiamo a vedere il profilo di canna la canna cosa molto interessante che ho notato sembra sembrare sembrare questa va nel blooper non riesco neanche a parlare cazzo andiamo a vedere la parte finale della canna con la volata alla canna che ovviamente in questo caso è brunita e la brunitura è fatta molto bene è fatta è fatta è falta è fatta ma te e che cazzo abbiamo praticamente spinto il pin nel lower receiver lo abbiamo tirato fuori e abbiamo svincolato che cazzo pa che cazzo guarda finisci su youtube che cazzo ecco eccoci blooper questo finirà nel blooper ecco qui ora devo ricominciare da capo grazie ragazzi il forget Zamino orco o congi casca mi caricatori i caricatori e cascati Panj Allora, calma perché qui si legge tutto su un equilibrio, allineamento dei pianeti, la luna, di tutto, di Giove, di Saturno. Oh, comunque ragazzi, fantastico come io abbia filmato due ore questa recensione e non mi si è accorto che avevo la coda in testa. Vabbè, piccolo blooper. Ci vediamo alla prossima ragazzi.